Ovviamente non stiamo parlando di chissà quali autori quando si parla ai registi e alla Marvel Non so perché mi è venuto in mente Watts John Watts Non so chi è John Watts Mi sa che è quello che ha fatto gli Spider-Man No, quello è John Webb No, Mark Webb è Amazing Spider-Man Ah, esatto John Watts sono i nuovi Ah, sì? Sì, sì, Gianni conferma la regista Gianni conferma? Ok, grazie Ok, allora Hai visto? Non era un nome inventato Cioè, peraltro ti sei ricordato il più anonimo dei registi Cioè, il meno regista dei registi È incredibile perché ho visto tipo Homecoming e basta E certo, e sei andato a casa dopo Bellissimo Ok No, è John Favreau John Favreau Non so neanche più se fai i film Ultimamente ho notato Che ci sono parecchi film che in qualche modo sono grosse, enormi pubblicità Ultimamente No, vabbè, ultimamente, cioè quest'anno sono parecchie C'è Barbie, Super Mario Ah, e Super Mario cosa vende? Vediamo se più o meno Vende i videogiochi Sì, ma andiamo più nello specifico Oggi, se l'hanno fatto nel 2023, cosa vuole vendere? I videogiochi Vuole vendere Mario come icona, come brand Sì, ok, ma vuole vendere Giusto per capire Vuole vendere un videogioco in particolare Vuole essere da hype per un'uscita No, no, no Vuole Una console No, vuole identificare Mario come mascotte E come quindi Cioè, vuole vendere la Nintendo in generale Mario ormai è sinonimo Nintendo, no? It's not all about the money Beh, anche se in questo caso In questo caso sì No, è anche No, no, è anche riconoscerlo, no? Cioè, nel senso Il fatto che ci sia un film di Super Mario In qualche modo Permette a una nuova generazione Di essere fissata con l'omino Col cappello rosso Che poi vedranno sulle Sulle copertine dei giochi Nei negozi oppure online E questo genere Cioè, io mi ricordo Quando sono andato a vedere Il film di Super Mario C'era la pubblicità Di tutti i giochi di Super Mario Che ci sono sulla Switch in questo momento Cioè, c'era uno spot C'era uno spot C'era uno spot Eh, io sono andato a vederlo Nel cinema del male Qual è? Cioè, in una grossa multisala In centro Non la citiamo? No, no, sì Sono andato a vederlo All'Odeon Ah, vabbè, minchia Cioè, c'è molto di peggio No, no Però già All'Odeon ci sono già Tipo 30 minuti di pubblicità Normalmente Sì, sì, sì Ma ti ricordi che No, non è nessuna catena All'Odeon 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 Ah, scusami Me ne ero scordato Eh, sì, sì, sì Certo No, perdonami No, no, no C'era la pubblicità Di vari giochi di Super Mario Tra cui Super Mario Odyssey Che poi ho comprato Dopo la visione del film Ok, fantastico Cioè, mi ricordo che Mentre ero in sala Diceva Elisabetta Quello è quello che voglio comprare io E quindi C'è Super Mario Che ha venduto Ha venduto parecchio E ha venduto anche Penso a tanti altri giochi Anche a me Quindi già da subito Grande successo Grande successo Ah, non mi è piaciuto il film Eh, però Super Mario è Super Mario Poi, vabbè Barbie, come avevamo detto Che forse non è propriamente fatto Per far vendere le Barbie Cazzo, è uno spottone Per me è uno spottone Secondo me Per vendere i giocattoli Per farti capire Non è tanto assurda questa roba Di prendere autori E fargli fare pubblicità Cioè, la Marvel Ovviamente non stiamo parlando Di chissà quali autori Quando si parla E registri alla Marvel Non so perché mi è venuto in mente Watts John Watts Non so Chi è John Watts Mi sa che è quello che ha fatto Gli Spider-Man No, quello è John Webb O Mark No, Mark Webb Mark Webb è Amazing Spider-Man Ah, esatto John Watts sono i nuovi Ah, sì? Sì, sì Gian mi conferma la regina Gian mi conferma? Ok, grazie Ok, allora Hai visto? Non era un nome inventato Cioè, peraltro ti sei ricordato Il più anonimo dei registi Cioè, il meno regista dei registi È incredibile Perché ho visto tipo Homecoming e basta E certo E sei andato a casa dopo Bellissimo Ok No, è John Favro John Favro Non so neanche più se fai film No, allora Facciamo il Russo Che sono i più autori I Russo Mi piacciono il Russo Piace che abbiamo Ah, che citiamo il Russo Però in realtà mi piacciono il Russo Perché hanno diretto E hanno coprodotto Alcune delle mie Delle sitcom preferite Tipo Endgame Tipo Che è una grandissima sitcom Ed è Arrested Development E Community L'hanno fatto da registi Purtroppo mi incoglio impreparato No, no, no Però dico Sotto quel punto di vista Purtroppo i russi Hanno fatto della roba Che mi piace veramente tanto I russi I russi Oggi proprio Zero Comunque dicevo Anche i film della Marvel Sono lì per Venderti qualcosa Ti vendono I fumetti Ti vendono i giocattoli Così come I film di Star Wars Cioè, i film di Star Wars Servono per Ripompare La voglia di comprare i giocattoli Questo già da La trilogia prequel Sì, sì, sì Assolutamente Non è una cosa da Disney No, no, no Ah, vabbè No, no, no Però è una cosa che Ora con la Disney È ancora più evidente Nella locandina Di episodio 9 Ah, sì, sì, sì Come sfondo c'è tipo C'è il faccione di Palpatine Che in realtà è Un close up È un close up Di una action figure Sì, sì, sì Di Palpatine Ben illuminata Ben illuminata Sì, sì, sì Esatto Quindi, cioè Ormai ti rendi conto che Sono talmente Sono arrivati al punto Di essere Gli stessi giocattoli Per fare il film Che è fatto solo Per poi venderti Quegli stessi giocattoli Sì Ma in realtà poi vendono Qualcosa di veramente di più Ti vendono Ti vendono L'abbonamento Mentale Certo Ad andarti a vedere Cosa succede dopo Cioè Nessuno di questi film Finisce È una cosa orribile Sì, sì, è vero Sono sempre lì Che poi c'è Ti rendi conto che La scena post credit A livello etico Cinematografico È come bestemmiare in chiesa È finito il film Non c'è post credit E post credit Ci sono io che vado a casa Non c'è la scena Non funziona così Quindi O lo fa un grande autore Edgar Wright E dici vabbè ok Se lo fa la Marvel Perché poi ti dice Finito tutto Continua Tu devi tornare Oppure c'era tipo Mi ricordo Capitano America Tornerà Speriamo di nuovo Però purtroppo È successo È successo La particolarità Non è solo La venita materiale È il consumo Algoritmico Cioè È il diventare Dell'opera Cinematografica Cioè Prodotto di consumo Sì Esatto È come tu Guardi Star Wars E poi ti vai a comprare I giocattoli Così tu vai a vedere Un film della Marvel Per poi andare a vedere Il prossimo film della Marvel Sì Diventa un consumo Continuo Un loop infinito In cui Continua a consumare 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 Passando da Il cinema Ai fumetti Alle serie tv Tutto collegato Questa cosa succede un sacco In Giappone pure Cioè C'è nel senso Il fatto che gli anime Abbiano i film I novel E hanno tutta una serie I live action I live action Hanno tutta una serie Di costellazione intorno Per cui Sei portato a Super consumare Quel prodotto Anche se L'opera principale Magari un'opera autoriale Finisce per essere Quasi schiacciata Dalla necessità Di una produzione Di una casa editrice Di guadagnarci Il più possibile Di spremere E mungere Il prodotto Poi tendiamo Poi tendiamo a essere Molto critici Nei confronti americani Ma effettivamente I giapponesi In questo senso Sono Assolutamente Esplicitamente peggio Assolutamente È una cosa incredibile Tu vai In un negozio Apposta Per acquistare Una figure Prodotta solo in Giappone Questo peraltro Un mercato internazionale Di Naruto Per avere una collezione Di cose Ferme Che col prodotto Alla fine Non Non è disgustoso No no certo Non giudichiamo Chi lo fa No 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 Assolutamente Anzi È disgustoso È disgustosa L'idea Che facciano Questo a noi Giusto Che ci facciano Che i multinazionali Giochino No no È disgustoso Anche chi lo fa E infatti Aspetta Ecco Io sono un po' Ma è stabile Lo spero Solitamente La piattaforma Devi pagare Tipo 7 euro in più Per averla E tu non li hai pagati No no Questa fortunatamente Era nella scatola Su questi sono stati buoni Questo è un tipico esempio Di quello che succede In generale In Giappone Io sono un patito Di Gampla Ovvero I plastic kit O model kit Dei Gundam Bandai Produce Questi bellissimi kit Da comporre Tipo Assemblare Tipo Lego Su tutti i modelli Che esistono Disegnati Di Gundam Di Gundam Disegnati Animati Che vanno al cinema Queste robe qua E in più Ha versione specifiche O magari Limited edition Queste robe qua È un circolo vizioso Nel senso che Ci sono Cioè la serie originale Degli anni 70 se non sbaglio Di Gundam Che ha dato alla luce Il bisogno di comprare 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 Questi bellissimi robot Perché io li adoro Sono bellissimi Ma dentro c'è L'umano Sì Non sto scherzando C'è un nomino minuscolo Nel petto No io parlavo Concettualmente Però sono molto contento Di sapere che Questa è a scala 1 a 100 Ok Sai che in Giappone C'è l'1 a 1 Sì certo Certo che lo so Davanti a Ce n'è uno Davanti alla Gundam Base Dove prima o poi Dovrò andare Sì 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 Dove ci sono tutti i modelli C'è lo unicorn Che si trasforma Cazzo bellissimo Io sono disposto A farci sponsorizzare Dalla Gundam Base E veniamo qui Con delle armature A fare il podcast La cosa è che Diventa un circolo Vizioso Per cui La Sunrise Continua a produrre Anime Fumetti Manga Novel E quant'altro Dove Vengono In continuazione Introdotti Nuovi robot Nuovi modelli Nuovi design E questa cosa Dà alla luce Tutta una serie Di merchandise Che tu sei portato A comprare Perché i nuovi modelli Sono sempre più fighi Sempre più grossi Sempre più luminosi Poi in realtà Basterebbe anche questo Di un'altra dimensione Di un altro materiale Per renderlo Un prodotto diverso E quindi acquistabile Questo per esempio È l'1 a 100 Ma c'è anche l'1 a 144 Che è più piccino Probabilmente così Poi ci sono quelli 1 a 60 Che sono più o meno Grandi così E così via Questo è per esempio Il mio guilty pleasure Consumistico Per quanto riguarda I giocattoli Perché sono un fan Dei giocattoli Tu dici giocattoli Ma perché lo stai mettendo via Io lo lascerò qui Lo vuoi lasciare qua Sì sì Lasciamolo qui Bellissimo Scusami Vabbè L'ho messo in posto Lasciamolo qui Per questa puntata Ovviamente No no Se vuoi lo possiamo lasciare qui No Sempre Sai devo cercare Sta coprendo Sai Deve cercare Una versione videomaker Questo proprio Queste sono come le Barbie Perché vedi C'è Gundam Assolutamente Certo Quindi no Questo era per Dato che eravamo già in tema Di action figure Consumismo Legato a comprare Tutto ciò che riguarda Una determinata opera Però questo è sicuramente un esempio Certo Un esempio anche Molto tangibile Concreto Si può toccare Il materiale Ed effettivamente Mi immagino In un futuro Un film di Gundam Diretto da un autore Che tira Tipo Mi immagino Un Del Toro No perché Del Toro È un mostro sacro Ed è un grande autore Non lo farebbe mai O se lo fa Spero sia bello Però mi immagino Un autore Che un giorno Fa un film di Gundam Tipo Super Mario Tipo Barbie Per Beh Effettivamente Mi sono completamente scordato Ci sono i Gampla Di Pacific Cream Di Pacific Cream 2 Però ci sono i Gampla Cioè ci sono i modellini Da montare Sicuramente Ritirano quanti Gundam No certo No 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 Però Sono stati fatti Se non sbaglio Ora non voglio dire Stronzetti Se non sbaglio È sempre Bandai Che li fa Quindi comunque È più o meno Già successo Più o meno Perché comunque Stiamo parlando di Pacific Cream 2 Che non è di Del Toro Sì E poi comunque Pacific Cream È un prodotto originale Quindi diciamo Non è un po' Non è che è stato fatto Un film per vendere qualcosa Certo Certo Un'operazione Un filo più interessante Un omaggio quasi Possiamo dire Certo Sì 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 Non solo ai Gundam Certo Ai Kaiju Ai Kaiju Ai Mecha in generale Grande film Bellissimo Io l'adoro Tanto grande Quanto una merda Dal secondo No non ho visto No non ho visto il secondo Va bene perfetto Sono molto contento Mi sono rifiutato Come ti senti Quando effettivamente Ti viene venduta Questa cosa qui Ah io ho un problema Con il comprare E lo so Il CBD Compulsive Buying disorder Esatto Quindi sei Pathologicamente affetto Da CBD Non lo so Non ho visto qualcuno Per farmelo dire Però sicuramente Ho qualcosa di simile Perché se esco di casa Per andare a Cioè l'altra volta Sono uscito Per andare a un negozio Qui a Milano Che non conoscevo E ho scoperto essere Un punto dove si vendono Solo action figure Ed era pieno di queste robe qua Sono tornato a casa Con qualcosa come Otto scatole Di modellini Dovevo andare lì Solamente a vedere Cosa c'era Invece sono tornato a casa Dovevi prendere il latte Esatto Quindi io Ho questo grosso problema Poi mi sento malissimo Perché mi rendo conto Che sto facendo Un gioco Veramente Terrificante Indotto dal consumismo Che stiamo vivendo E Con il cinema Questa cosa Mi dà ulteriormente Fastidio Soprattutto Mi dà fastidio Lo vedremo magari dopo Però mi dà Veramente tanto Fastidio Quando Vado in libreria Vedo che viene promosso Ovunque Il libro Da cui è tratto Il film del momento Certo E ho voglia di comprarlo Ho voglia No a me Io ho sempre voglia di comprarlo Perché ho sempre voglia Di fare poi il paragone Con il libro E poi con il film E quindi ogni volta Cioè tipo Cos'è Escono puttanate Che non mi interessano Tipo se Domani vado E c'è Il libro su Openheimer Lo voglio leggere Ok No per esempio Killers of the flower moon Ok ecco Perfetto Le otto montagne Non l'hai visto Non l'ho visto Ok va bene Però no Killers of the flower moon Per esempio Sto ordinando il Cioè devo ordinarlo Perché non avevo tempo Di leggerlo Nelle scorse settimane Provo di ordinare Il libro Anche se so che poi Non c'entrerà niente Certo Hai un poster alle spalle Sì però per esempio In questo caso Nel caso di vizio di forma Io ero già un fan di Pynchon Prima che Cioè avevo già letto Pynchon Prima di vedere vizio di forma Quindi era più il desiderio Di vedere cosa succede Sì Questa cosa è trasposta Poi avevo letto Tutt'altro di Pynchon Vizio di forma Ancora Non l'ho letto tuttora Però sì Diciamo che Era completamente diverso Poi ero sia già un fan di Pynchon Che è un fan di PTA Quindi non Non mi ha spinto quello E non sono mai Tra l'altro Stato chissà quanto Spinto a leggere il libro Però sì È una cosa che Mi succede Spessissimo Anzi ho Delle prove Però Ci arriviamo tranquillamente Tu scusami Non Non provi Malessere Io non consumo Questo Io non consumo No esatto Questa è grande Grande falsità Sai questo da dove arriva? Lei Questo è un altro tuo problema Cos'è tipo Limited edition No Questo arriva Dal cofanetto C'era questa edizione Che Anzi Tuttora in realtà Devo riuscire a Perché purtroppo I costi Per fare queste cose qui Poi sono Per me Che sono una persona modesta Sono elevati Però Penso una decina d'anni fa 15 anni fa Quando Arrivò L'home video Di Takashimiki in Italia Veniva distribuito Questo Cofanetto Che raccoglieva Per trilogie I suoi film Più importanti Di inizioni 2000 E questo mi sembra Che era Il primo cofanetto Che comprendeva Quindi Il film Icide Kid Audition E Cazzo Non mi ricordo Il terzo Perché ho acquistato Questo cofanetto Perché in realtà Il cofanetto Cazzo Non ce l'ho Avrei dovuto portarlo Il cofanetto era Comprendeva questa t-shirt In edizione Ovviamente Molto limitata Tant'è che c'era solo la XL E all'epoca In realtà Ero piccolino Quindi Non la potevo neanche indossare Però averla Era importantissimo E dietro c'è un 1 Poi facciamo un Mi giro Quindi questa Importantissima t-shirt Ma il cofanetto Aveva anche Questo è un tipico Lo spazio Per contenere I successivi cofanetti Che dovevi comprare a parte Ah ok Ok presente Tipo proprio robe da edicola Sì 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 certo E poi Quelli lì Ancora oggi Sto cercando di completarli Proprio perché Ah ma perché Ancora non li hai presi tutti No non li ho presi tutti i cofanetti Perché in realtà Sono film di miche Che poi davvero Non guardi No non è che non guardo Sì Non rientrano tra i miche Che visto che fa 18 film l'anno Sì sì certo Non rientrano magari tra i miche Che ti interessano Che preferiscono Sì 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 Quindi Cioè di avere la trilogia Di Dead or Alive Cazzo però No 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 Rispettabilissime Però non essendo Cioè è come avere un autore In mano Che cazzo ne so Ho degli horror di Peter Jackson Io amo Peter Jackson Però gli horror in particolare Certo No no capito Quindi Prendilo a me Il cofanetto di Dead or Alive No no Lo devo ancora acquistare Eh eh Prendilo a me Compramelo No no Vabbè No sì Se lo compro lo voglio mettere nel mio cofanetto Che riempie la collezione Va bene Purtroppo sono anche io vittima Di questa cosa qui Diciamo che Rispetto a te Ho maturato uno snobbismo Anche in quest'ambito Cioè credo intanto che Poche persone riescono davvero a Essere minimalisti Sì A escludersi Da tendenze Consumistiche Nella società capitalista Ovviamente parlo E a non acquistare cose Che realmente Non ti servono O che Non fungono Poi non hanno una funzione attiva Nella tua vita Ad esempio Il Gundam Non lo acquisterei Però Tendo A voler Ad esempio Degli oggetti Molto Li posso definire hipster Molto snob Ho capito Sul cinema Sul cinema Che piace a me Ok Quindi ad esempio Ti faccio un esempio Io a casa Ho quattro versioni di Anabie Ho l'originale La primaria stampa Ho quella dentro il cofanetto L'edizione Blu-ray Ne ho una qui Te la posso mostrare Vai vai Ho portato Ho portato questa edizione Te l'ha dato bellissima Un DVD Un DVD Sì Un DVD Chiaramente non li ho mai usati Non li ho mai visti Posso toccarla? Certo Sì sì Puoi toccarla Posso farla vedere Sì sì Puoi farla vedere Puoi farla vedere Questa è l'edizione Questa è all'asta per Partiamo da 50 No La voglio tenere io Questa in realtà è un'edizione Povera Però è un'edizione giapponese Ho capito Cioè Quello che c'è Sopra È il consiglio Del videotecaro Ah bello Che dice Con una grande interpretazione Di Beat Takeshi E quant'altro Cazzo Non si può non avere capito Non è un'edizione Certo Particolarmente di valore Però in un qualche modo È un cimelio carino Sì È una roba Che comunque a te piace Cioè nel senso è L'hai presa in Giappone no? L'ho presa in Giappone Eh allora Ci sta anche perché È bellissimo Averla Avere anche la dedica Del videotecaro Del videotecaro Sì 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 E poi ovviamente Ho preso questa insieme A altri tre o quattro film Tutti quelli disponibili Di Kitano Presenti lì E avrei voluto prendere Coreda e quant'altro no? Perché solo l'idea Di avere questa edizione O un'edizione VHS Quanto sei hipster Mamma mia Però Però vabbè Tu dirai Questo rispetto al mio Gundam Non vale un cazzo No 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 Infatti la cosa che stavo pensando è Oh io avevo paura che Siccome poi la maggior parte delle cose Saranno libri E cose del genere Avevo paura di dire Ma magari Faccio troppo il pretenzioso Se faccio vedere che Il mio consumismo È legato Alla letteratura Invece no Tu sei Grazie il pretenzioso Di me Però vabbè Completo Quindi Questo gioco qui Ho altri due pezzi Ok Che sono pronto a svelare adesso Questo possiamo dire Che è il pezzo più debole No Un pezzo così Un assaggio Antipasto Ok Come ti sei sentito l'antipasto? No È piacevole Ok Sono ancora abbastanza libero Ok Io per mesi in realtà Ho ricercato un pezzo Molto raro Almeno Al momento dell'acquisto Era molto raro Adesso Purtroppo l'ho visto comparire Che mi fa molto male Vuol dire che qualcuno Lo sta vendendo Sempre in tema Chitano Che è Non so come si pronuncia In francese Ghost de Pintre Ragazzo pittore Ok Mostriamo Questo non lo posso toccare Questo lo puoi toccare Posso toccare Asciugati un po' le mani Per favore Sul pantalone Questa della fondazione Cartier È il catalogo Dell'unica mostra Che ha fatto In Europa Chitano Mostra In cui peraltro Erano in vendita Anche i suoi dipinti Che volevo Molto acquistare Ma che purtroppo Sono andati esauriti Immediatamente Ma mostra 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 Di solo robe sue Sì Queste sculture Queste robe Sono sue Sculture Dipinti È incredibile È incredibile vero Questo è un pezzo Clamoloso Questo è bellissimo Sì Però diciamo che Questa è una roba Che io non la prendo Come consumismo Cioè nel senso Sì va bene Hai spesso Non voglio sapere Quanto è spesso Hai spesso soldi Per averlo Per trovarlo Ci hai messo tanto tempo Ma cioè Questa roba qua È un pezzo L'arte purtroppo Non è tanto facile A reperire Soprattutto quanto Si tratta di Artisti magari Più marginali Nel senso che Comunque Stai dicendo che Chitano Ovviamente no No che Chitano comunque Non è chissà quanto Riconosciuto Nella cultura pop Come pittore O come artista Quindi Questa roba qua È una roba Per Per chi Veramente lo ama Per chi lo segue E poi soprattutto I cataloghi Solitamente Cioè Oddio Conosco persone O comunque Ho letto di persone Che fanno Collezionismo In cataloghi De festival Tipo Ah cazzo Bellissimo In cineteca Ci sono tutti Quasi Eh sì sì Molto interessante Io ne ho Io solo l'unico Quello di Locarno A cui sono stato Ma cioè Io non lo so Questo non riesco A vederlo come consumismo Secondo te C'è qualcuno Che effettivamente Lo fa per lucrarci Oppure Allora Cioè comunque È un servizio Anche all'arte Questa roba qua Sì 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 È un servizio all'arte All'autore Nel senso che poi In qualche modo dai la possibilità a Kitano Di anche vendere i suoi dipinti Fuori dal mercato giapponese O comunque venderli in generale In un mercato internazionale Di Compratori d'arte E questa è la vendita dei dipinti Questa è un po' Per me Che non posso permettermi Quattromila euro di dipinto Così O 16.000 euro Da appendere al muro È un po' Quella via di mezzo Che ti permette comunque di Avere effettivamente per le mani Qualcosa che Tecnicamente Non è fatto Per puri scopi commerciali No esatto Cioè al suo interno Come tutti i cataloghi Che ho a casa Ma in generale anche Un certo tipo di Libroni Illustrati Grossi Legati ai registi O quello di Wes Anderson Che sicuramente è il più commerciale No però aspetta no Quelli sono in coffee table book Esatto Che tieni sul comodino Per dire Quando entra qualcuno Quello è continuismo puro per me Però anche questo lo è No perché questo Quella roba lì è venduta In modo industriale Cioè quella roba lì Non è Non sono pezzi Cioè quella roba lì Vai in libreria E lo trovi Vai su Amazon E lo trovi Cioè io ho una cosa Che volevo comprare tantissimo Sempre perché vabbè Ormai ci siamo Volevo comprare I cataloghi E le riviste Che fa Arachi Il disegnatore di Jojo Che per me È un artista Immenso Lo amo E volevo comprare Le sue robe Costano un sacco Perché Vengono prodotte Quando fa la mostra Quando Effettivamente vuole fare Un annual Dove pubblica disegni Roba che ha fatto Durante il corso degli anni Sono pochissime copie Sono solamente Da collezione Ma Cioè non la vedo tanto Non è Lo stesso tipo di consumismo Popolare Diciamo Non è quella roba lì Cioè questa roba Vedi Sei un pezzo di merda Dovevi portare lo schifo E invece porti le cose belle Beh Lo schifo Cioè io ho portato questo Che comunque è bellissimo Assolutamente Non si può dire niente Però ti rendi conto Che io mi sono abbassato A far vedere Il mio modellino E tu hai portato No perché In realtà davvero Non so esattamente Cioè Per me Il desiderio incontrollato Di acquisto Arriva nel momento in cui Io ho La percezione Che si è limitato Il pezzo Che si è limitato O nella stampa Per dire Io sono fissato Con le prime edizioni Io ho acquistato La prima edizione Di Ragazzi di Vita Che è distrutta Di Pasolini Però è la prima edizione Del suo primo romanzo E non puoi non averla Lì Distrutta Inleggibile La apri Si sbriciola Un reperto Alla Indiana Jones Un papiro Che è sbriciolato E stavo per spendere Altri 100 euro Per acquistare Nella famosissima Libreria Quella Venezia Sì la quarta Sì La prima edizione Di Una vita violenta Quindi il secondo Romanzo di Pasolini A 100 euro Romanzo che ho già letto E che ho già In diverse edizioni Garzanti Quello per me però È davvero Tipo Appartiene alla categoria Del consumismo Perché io mi sento Davanti a qualcosa che Se non acquisto adesso È un'occasione persa Cioè io so già Che adesso Tanto Una vita violenta Quell'edizione lì Sarà ormai stata acquistata Dieci minuti dopo Da qualcun altro Io mi sento male Se ci penso Dico cazzo Avrei dovuto prenderla Così come quando Controllo i cataloghi O libri autografati Perché ahimè Anche questo è un altro Mio piccolo problema Libri autografati Su ebay Nelle aste Cazzo Cioè quella roba lì Che tipo Se non l'acquisto adesso Poi non l'acquisto più Però questo è Consumismo puro Perché io devo leggermi Un romanzo di Tadini Autografato Quando posso leggerlo Normal Cioè più che consumismo È collezionismo Cioè per me Il consumismo Ripeto Questo è sicuramente Consumismo Non voglio Invalidare Fammi essere No no infatti Assolutamente Sei una merda Anche tu Però in qualche modo Questa roba qui È più Ricercata Cioè effettivamente Una passione Cioè Non è compulsivo Capito? Ok no certo Mentre Per me è veramente Tanto compulsivo A volte Dire cazzo Devo comprare Roba Devo comprare Tanta roba Devo comprare Tutta la roba Che mi piace E che mi fanno Piacere in qualche modo Vediamo un esempio Questa roba qua Ok Cazzo Questo tra l'altro Cioè non costa nemmeno tanto È 25 euro Se volete È un'asta Di cose Non ho capito Quindi questo vale? Questo vale 25 euro Ora ne varrà 5 Non lo so Non è nemmeno Tipo prima edizione O cosa del genere Prima edizione La prima edizione Della super Eh cazzo Si sente proprio Il rumore Della cultura Della cultura Si Questo io l'ho comprato Perché ho visto la serie Oh ok E non l'ho nemmeno finito Di leggere E la serie l'ha finita Non che mi sia piaciuta La serie l'ho finita Questo non l'ho finita Di leggere E li stavo per comprare Tutti prima ancora Di leggerli Certo Tu volevi Sul tuo scaffale 1, 2, 3 Esatto Esatto Li volevo tutti quanti In questo modo poi Tra l'altro In questa edizione Fastidiosissima da leggere Certo Cos'è? Un tomo da biblioteca Che devi tenere sopra Il leggio E leggere in piedi Non ha senso Questa roba qua Tra l'altro Questa edizione Se non sbaglio È stata fatta apposta Dopo l'uscita della serie Perché prima in Italia Questi libri erano arrivati divisi Questo libro qua In realtà era tipo divisi In altri tre libri Una cosa del genere Certo Io non l'ho mai finito di leggere Per quanto in realtà Poi L'ha scritto di George General Martin Mi piaccia pure Cioè questo tipo E i fantasy Mi piace parecchio Io ho smesso di leggerlo Quando è morta L'interesse per la serie Lo stavo leggendo È uscito all'ottava E ho detto No Basta È morta Mi ha fatto così tanto schifo Perché è morto L'interesse Di provare Ad andare avanti con i libri Per quanto mi interesserebbe In realtà poi Leggerli tutti Perché ripeto È comunque Un tipo di fantasy Un tipo di narrativa Più pulp Che mi piace parecchio Però per esempio Questo è un acquisto Ignobile Inutile Quindi C'è questa roba qua Per esempio Poi c'è questi Che sono La saga ancora non completa Mi mancano tre libri Se non sbaglio Di The Witcher Tra l'altro Vorrei farvi vedere Intanto sono tutti diversi Perché Chi ha stampato questa roba Ha una testa di cazzo No È insopportabile Non li puoi avere Nello scappare Tutti belli o niente No no Sono due piccoli Ma poi Cioè nel senso Questo è Insieme ai racconti Quindi ci può stare Che è diverso Va bene Questo è insieme ai racconti Ma perché è diverso Rispetto alla teatro Questo È il primo libro Della saga È il primo romanzo Della saga Solo che tutti gli altri Romanzi della saga Sono così alti Perché Vabbè Queste sono cazzate mie Li metto qua Un attimo Non fa niente Sono prodotti di consumo Sono prodotti assolutamente di consumo Che come potete vedere Sono i libri di The Witcher Quindi il libro Scritto da Sapkowski Negli anni 90 Con copertina Tratta dal Secondo videogioco Ok Artwork del secondo videogioco Artwork del secondo videogioco Con un bollino Ora serie su Netflix Cioè c'è tutto Capito C'è tutto Ti manca solamente Ah c'è pure Il fumetto E hai completato Un foto di tocco Per mettere Henry Cavill Dentro Sì 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 esatto Questa roba qui Rispetto a Game of Thrones Sto continuando a leggerla Forse perché ancora La serie sta uscendo O forse semplicemente Perché The Witcher Mi piace di più Come libro Rispetto ad altro Ho cominciato a leggerli Alla fine Della seconda stagione Tu li hai acquistati Tutti insieme No Esatto Ok Ho comprato i primi tre Quando è finita La seconda stagione Perché la seconda stagione Nella serie Mi ha fatto così tanto schifo Da amante del videogioco Perché comunque Non avevo letto Mi ha fatto così tanto schifo Che ho detto No i libri Non possono essere così Non è possibile che Si di Project Red È arrivata E ha creato una roba Fighissima dal nulla Magari è possibile Però The Witcher È un personaggio Totalmente tanto figo Che voglio leggerne di più Quindi ho preso I primi tre libri Mi erano piaciuti A morire Però dopo aver letto Il terzo Diciamo che Stava cominciando a essere Magari Cioè Un po' stomacava Stomacava Un po' stucchevole E ho detto Devo leggere altro Ora è uscita la terza stagione Ancora non l'ho vista Ho comprato Altri due E li ho letti Prima di vedere la stagione Perché Quindi comunque Questi sono stati anche consumati Questi sono stati consumati Sì Il Trono di Spade No il Trono di Spade È smorto completamente Invece Questi sono stati consumati Perché ancora la serie Cioè Ancora posso guardare la serie Dire questa è una merda Rispetto ai libri E soprattutto possiamo dire Che quindi il valore Rispetto per dire A un Gundam Comunque Non è che Tu hai acquistato delle cose Poi ma che cazzo ho comprato a fare Non è che Hai preso una roba Che non puoi usare Che non puoi fruire Poi non è detto che tu Di notte ci giochi No Non ci gioco Però Cioè tipo Io questo Non l'ho mai messo In un lettore di video Non l'hai mai consumato Non l'ho mai consumato O meglio Il film l'ho consumato Ma non quello Questo No Questo oggetto Potevo evitare Sì sì Hai ragione Quelli li ho consumati Anzi Devo dire che mi piacciono Molto di più Dei videogiochi In realtà Cioè almeno del video Ho giocato solo al terzo Per quanto il terzo sia bellissimo In realtà I racconti di The Witcher Nei romanzi della saga di The Witcher Mi piacciono veramente tanto Sono scritti benissimo E penso che continuerò a leggerli Poi in futuro Me ne mancano tre Li leggerò Però sì Quindi almeno in questo caso Diciamo che il consumismo Mi ha permesso di Scoprire anche un'autorialità Un autore E determinate Una storia diversa Rispetto a quello che mi aspettavo E che Mi ha dato veramente tanto E invece poi c'è un'altra differenza Leggerissima Se tu vuoi mostrarmi altro Intanto io Io Dici Faccio così Aggiungo un pezzo di consumo Che è un mix tra le due Ok vai 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 E questo poi si collega Al prossimo pezzo Che ti voglio mostrare Va bene Allora questo è un libro Lo possiamo definire Saggio Su Céline Sham Ok Architetture del desiderio Che credo Arrivi fino a Petite Mamà Ok Io non ho mai letto questo libro Intanto perché mi manca Il secondo film Della Sciamma Che dovrebbe essere Diamanti Neri Adesso non mi ricordo Come si chiama E quindi voglio Completare la filmografia Prima di effettivamente Leggerlo Perché poi lei mi piace tantissimo Come regista Io non ho mai visto niente Sono curiosissimo Sono sempre stato curiosissimo Non so mai riuscito a vedere niente Cazzo Quello che ho visto io È folgorante Bellissimo Ma la cosa per cui Ho portato questo libro Che non ho letto appunto È che Autografato Dalla Sciamma Con scritto anche Per Federico C'è il mio nome sopra Quindi questo Non lo voglio vendere Questo qui è mio C'è scritto C'è scritto il mio nome Ma questo Dal vivo te l'ha firmato Me l'ha firmato dal vivo Io ho acquistato questo libro Per avere l'autografo Di Céline Sciamma Ma dove? All'Anteo Palazzo del Cinema Mentre c'era la presentazione Di Petite Mamam Quindi Lei è venuta Ha fatto la presentazione Fuori dal cinema C'era un banchetto Che vendeva il libro Che vendeva il libro Lei c'era Cosa fai? Non dai 10 euro Adesso non mi ricordo 10 euro, 15 euro Per prenderti il libro Braccarla Quindi proprio Una cosa brutta ho fatto Ho fatto una cosa proprio brutta Scusami Lei si sta facendo i cazzi suoi Ma come ti chiami? Però lei Possiamo dirlo Céline Sciamma Donna pazzesca Gentilissima Non mi ha detto Sei un uomo di merda Vai a fare in culo Non ti ha spento la sigaretta Sulla fronte No, no, no Non mi ha proprio Spinto fuori dal cinema Mi ha ringraziato Ha scambiato due parole Mi ha firmato il libro Nonostante l'avessi preso Un secondo prima Mi dispiace Se lì non ho letto Però vedo il secondo film E poi lo leggo Sto scherzando Sono molto interessato A questa cosa qui Se vuoi lo puoi toccare Posso cancellare con il dito Questa è una roba che io non comprendo Per farti capire Vabbè Pure questo Cioè Nel senso Pure che me lo dai in mano No, no Perché Questo è all'asta per Costava 15 euro però Pezzo unico A Federico Se ti chiami Federico Sono 75 euro Se non ti chiami Federico Facciamo un po' di meno 50 Solo 50 vale l'autografo di Saint-Cham Ma secondo me sì Non ho con niente contro lei Semplicemente che Cioè non è Katrin Bigelow E allora quanto vale L'autografo di Takeshi Kitano Posso? Posso? Prima facciamolo vedere a casa Giusto perché Questa è irraggiungibile Autografo di Takeshi Kitano Ma su cos'è poi? Su che cos'è? In che senso? Su cosa te l'ha fatto? Poi non so se te l'ha fatto L'hai comprato su ebay Questo è fatto su Su ebay Su carta Questo è fatto su carta Da un bambino Coreano E no poi ovviamente Bisogna capire la validità No infatti Cioè Un bambino cinese Dentro uno scantinato Che produce Tutta una serie Di falsi Però sai perché Questa è importante? Perché non è un autografo Di Takeshi Kitano Qualsiasi Cioè non è che Sta andando A fare la spesa E lo fermi Scusami Il film più bello Importante della storia del cinema Autografato Alla mostra del cinema Di Venezia Nel 2002 Quando lui Ha portato Dolls Quindi Ma come fai a saperlo? Me l'ha detto Il venditore di ebay Peraltro Anzi Anzi No 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 Subito.it Peraltro L'immagine Cioè quando io L'ho acquistato C'era una gigantografia Di Dolls Roba che occupava Questi tre poster Insieme E poi piccolo In basso a destra C'era l'autografo E ho detto Cazzo bellissimo Io mi acquisto tutto questo Me lo appendo No fantastico Poi questo è stato proprio Questo pezzo È stato quello Che poi mi è arrivato Giusto Questo adesso lo posso mettere Non voglio coprire Wang Bing Che è un altro pezzo Di consumo Lo possiamo appendere Se vuoi No mi fa paura Che poi cade Magari Lo tengo in mano Se vuoi No non tocco Perché ci sono pure I notebook Che comunque Sono molto Sono Anche quelli Non li posso toccare Cioè Molto bene Io questa roba Non la capirò mai Questa roba Non la capirò Nel senso che Proprio non provo niente Nei confronti Degli autografi Quando sono stato Allocarno Mi sono fatto fare L'autografo Di Jodorowsky Che ho sopra Un mio quaderno Forse ce l'ho pure qua Cioè io ho dato il quaderno Ha girato la pagina Ha scritto Tutta pagina Aleandro Jodorowsky Sopra Sopra il quaderno Però lo tengo dentro il quaderno Cioè non Non l'appenderò mai Mi fa ridere il fatto Che ci sia la sua firma Dentro il mio quaderno Ma non è niente E che E poi mi sono fatto firmare Perché a Locarno Ogni giorno c'è tipo La rivista del festival Dove ci sono Vari articoli su Le persone Che sono presenti Al festival Quindi per esempio C'era Harvey Keitel E c'era il facciano Di Herbie Keitel Che io ho portato A Herbie Keitel Mi sono fatto firmare Durante il Q&A C'era un'altra rivista Non c'aveva Il suo faccione In copertina Ma ce l'aveva Dentro un articolo All'interno Che era Gaspar Noé Io sono andato a Gaspar Noé Me lo sono fatto firmare Sull'articolo Lui si è disegnato I capelli Ti ricordo che tu Hai iniziato questo discorso Dicendo Io questa cosa Delle autografie Non la capirò mai Aspetta Ne hai già fatti più di me Ero più piccolo E comunque Nel senso Ero lì Cioè mi faceva piacere A avere qualcosa E soprattutto con l'idea Di avere anche Io adoro le riviste Avere la rivista Con sopra Il loro scarabocchio Mi faceva ridere Il fatto che Gaspar Noé Si ha disegnato i capelli Perché lui è pelato Si ha disegnato i capelli Ha detto Ah anche con i capelli Più brutto Tipo una cazzata del genere È stato molto simpatico Il fatto è che Mentre tu hai Questa roba qua Che sei andato a ricercare E hai comprato E è dentro Una cornicina E tutto quanto Io ho strappato I fogli alle riviste E li ho attaccati Sul muro di camera mia Con lo scotch Tutta la penna Con cui sono stati fatti Gli autografi È completamente sbiadita Cioè se vai a vedere Ora Manco si riconosce Che sono stati firmati Cioè questo è il modo Tra l'altro Sai che Sai che Stavo pensando Qual è Dove va a succedere Mettilo a posto Per favore Qual è secondo te Il Il lato giusto Poi peraltro Sarà questo O sarà Magari questo addirittura Si è scheggiato No no Ah ok Cazzo mi hai fatto cacare sotto Fede No ma mettilo via Ho paura di farlo cadere No no ma anche se cade Simo un pezzo di carta Questo è il punto Non lo so Sì 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 Hai avuto uno sguardo Assatanato Per un attimo Andiamo avanti Dicevo questo è il modo In cui tratto Le mie cose Sono molto No ma guarda che Il punto è appunto Secondo me Scusatemi Ho fatto Il punto è appunto Però il punto è Come uno poi Si approccia al consumismo Cioè secondo me Dato che non ne puoi In un qualche modo sfuggire Ma anche banalmente Per me il consumismo è Ho la maglia dei Joy Division Certo Cioè è quella roba lì no Certo La maglia delle CDC Comunque tu stai In un qualche mondo Vestendo un logo Vestendo un brand Stai diventando portavoce Di un logo Di un brand L'unico modo che hai Per scamparne È avere comunque Secondo me Un approccio Leggero Cioè la gabbia Di questa cosa qui Non deve diventare Un impedimento Secondo me Deve diventare un po' Un divertimento Come può essere questo Non mi interesserebbe troppo Se uno di questi oggetti Si rovinasse Davvero Non mi dispiacerebbe Nel senso Cerchiamo di non farlo Però se dovesse succedere Non è paragonabile A altre cose Che mi farebbero dispiacere Certo Quindi Secondo me un po' Deve essere questo Cioè deve essere Un modo per intrattenersi Un po' come a volte Lo è il cinema Sì sì no Sono d'accordo Io stavo vedendo Un attimo Per esempio Tu hai visto Lettori cd Cass Impianti stereo In casa mia No Ma vedo anche una pellicola Quindi Eh no Per questo Dico cioè Questo è stato Comprato E regalato Alla mia ragazza Cioè quindi questo è un regalo Questo è un regalo Che ho fatto di Elisabetta Sì Che non è stato mai aperto Né da me Né da lei Un regalo Apprezzatissimo Consumato Possiamo dire Consumato Ma principalmente perché Chi cazzo compra cd Io No anche io Li compravo quando avevo un impianto stereo a casa Ora Olci di Non ce l'ho più Joyza Ishi Meet Kitano Films Va bene Ma questo l'hai preso Questo l'ho preso Quando è uscito il film Tipo subito Appena è uscita fuori la colonna sonora L'ho comprata Quindi questo l'hai preso in un negozio Non l'hai Questo l'ho preso in un negozio Sì Anzi mi sa che l'ho preso proprio qui a Milano Mi sa Insieme a Che non ho messo qui Insieme a Due copie Del cofanetto con prima e seconda stagione di Twin Peaks Perché due copie? Una per me e una per Elisabetta Ma lo sai che Vabbè Ancora non convivevamo Quindi Ah ok Perfetto Non c'era ancora uno scambio diretto Delle cose Adesso Ora ne abbiamo due Ora ne abbiamo due Certo Ora ne abbiamo due Che brutto sullo scaffale No infatti l'ho lasciato a Cosenza Ok perfetto Perché ho detto È il minimo Ce l'abbiamo già a casa Sono tante cose che Che si comprano completamente a casa Cazzo E Purtroppo Viviamo un po' di questo Cioè nel senso Io quando penso ai regali Questa è l'unica cosa che mi vengono in mente Questi beni di consumo E il problema è questo Perché Ci sta Cioè nel senso Viviamo in un mondo consumista Viviamo in un mondo capitalista In qualche modo Queste cose ti fanno stare bene Anche se non dovrebbero Sì Biologicamente Chimicamente Ti fanno stare bene però anche Perché sono legate comunque ad opere Certo Che per te hanno un'importanza No? Questo è Penso sia il primo film Che siamo andati a vedere al cinema Quando ci siamo messi insieme Quindi in qualche modo C'era un legame forte Con il film Era un simbolo In qualche modo Anche se non è il film in sé Comunque qualcosa Che si ricollega A quella cosa lì È un qualcosa che ogni volta che lo vedo Mi ricordo i baby driver Mi ricordo di come mi aveva fatto stare bene Di come mi aveva divertito Non bisogna demonizzarlo A prescindere No 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 esatto Cioè ci sono Non è che ci sono modi Per farlo in modo Etico È semplicemente che Ognuno sta bene Con quello che lo fa stare bene Purtroppo quando stiamo bene Andiamo incontro a un sistema Che ci fa stare male Questo è il problema più grande Qual è la prossima cosa che acquisterai? Vabbè come ho detto Il libro di Killers of the Flower Moon Sicuramente Un altro paio di Gundam No avevo visto Volevo comprare il cofanetto Di Indiana Jones Aspetta che esca anche il quinto Eh no infatti Aspetto che esca anche il quinto Cazzo quando devo pensare a cosa comprare È difficile No è più facile andare a scrollare su Amazon Oppure andare in libreria E vedere cosa c'è E poi uscire con buste piene Quindi non hai un obiettivo Sai la famosa Charizard dei Pokémon No non ho niente di questo tipo Forse da un punto di vista Tipo di macchine fotografiche Perché mi piacciono molto Le macchine fotografiche Sai cosa? Un PG Un perfect grade Come dicevo questo è un master grade Che è un a 100 I PG sono una 60 Quindi sono più grandi Sono più complessi Non ne hai uno No Costano sui 300 euro solitamente Vanno dai 200 ai 300 euro Anche di più Voglio uno di quelli assolutamente Va bene Studiamo anche la Mattel Che sponsorizza questo video Ti dia 300 euro Bandai 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 Tra l'altro Poi te lo devo far vedere C'è uscito una ristampa Quello che è Di un model kit Del Metal Gear Rex Cazzo è bellissimo Sì È bellissimo A casa io forse ho La figure di Snake In posa di Metal Gear Solid 4 Poi quando ho iniziato a rifiutare Queste cose qui Deve essere finite in qualche Non l'hai venduta? No Perché poi si era spezzato un pezzo Una sigaretta E quindi l'ho proprio ripudiata In qualche angolo Puzzolente Beh io ho Prenotato La start up Limited edition In cui comparirà anche il mio nome All'interno di CG Entertainment Di capolavori di Wanker Y Ma questa cosa me la stai ripetendo Da tipo Due anni Non so esattamente come funziona il processo Però tipo Ho finanziato anche Battle Royale Credo prima di questo Quindi un anno fa Un anno e mezzo fa E mi è arrivato alla mente Tipo hanno terminato il doppiaggio Qualche mese fa Quindi secondo me Con quei soldi Loro fanno un lavoro Della madonna A proposito No io non compro Tantissimi Blu-ray Quanti lettori di Blu-ray hai a casa? Ho un lettore di Blu-ray Ce l'ho Non l'ho mai visto È nascosto Ho un lettore di Blu-ray Questo McCabe Mrs. Miller È il mio film preferito Uno dei miei film Lo vediamo stasera Lo vediamo stasera Per forza Vabbè possiamo vedere anche Anabico Comunque è giapponese Sì Questo mi è stato regalato al compleanno E Elisabetta Perché Posso? Sì sì certo È un'edizione Criterion Che al momento Insieme ad altre case di distribuzione Blu-ray DVD Continuano a fare uno dei lavori migliori Per quanto riguarda il resto No O comunque L'acquisizione di pellicole restaurate E soprattutto per i contenuti extra Che riescono a ritrovare A buttare dentro Sui film Purtroppo Ha comprato Cioè mi ha regalato Questo regalo Che è stato apprezzatissimo Perché ripeto Uno dei miei film preferiti Il problema è che È region A No Quindi io per Un anno Tipo qualcosa del genere Non ho potuto vederlo Finché non hai preso un DVD free Finché L'anno dopo Un lettore free Non mi è stato regalato Un lettore region free Insieme a Sempre la versione Criterion Di Ausu Non ho mai visto Né questo Né la versione di Ausu Sul mio lettore blu ray Inauguriamolo stasera Inauguriamolo stasera Esatto C'è il commentario Di Altman Su questo film Non l'ho mai visto Perché sono un po' Uno stronzo E perché effettivamente Avere L'oggetto fisico È più importante Di poi utilizzarlo Perché tanto il film In qualche modo L'avevo già visto Anche più volte E quindi diciamo che Alla fine È stranissimo Cioè nel senso Farsi la propria Videoteca Per poi Veramente Non aprire mai I DVD A meno che proprio Lo vuoi vedere in quel momento Ti serve vederlo in quel momento Però se C'è su qualche piattaforma Streaming Il film È molto più facile Beh io però Tendo Infatti La mia collezione Non si amplia più da un po' Perché tendo ad acquistare Solo film Distribuiti Non video in Italia Che ne so Di Johnny To Di Jezank E quant'altro Che non trovo poi Da nessuna parte Non trovo nelle piattaforme streaming Non trovo su YouTube Ricaricati Flippati Quello che vuoi Tendo a fare quelle ricerche A spendere anche un sacco di soldi Mi ricordo che spesi 50 euro Per il DVD Di The Mission Ho speso 99 euro Per I tre cofanetti Di Cinico TV Di Cipriano Introvabili Sono stato anche Dentro la Cineteca di Bologna Ho detto Dov'è il volume 2 Eh no Esaurito Non lo troverai mai più Cazzo Poi qualcuno l'ha messo L'ho acquistato subito E poi li vedo Perché effettivamente Diciamo Li ricerco Perché li voglio vedere E perché altrimenti Non li trovo Da nessuna parte C'è un limite Infatti questo poi È il piacere Secondo me Di quando Consumismo Combacia poi Con la fruizione Effettiva Che figata Perché un conto È comparsi la prima edizione Del romanzo di Pasolini Che ho già letto Che sono proprio Un coglione Un conto è Acquistarsi la prima edizione Del DVD Di The Mission Che però non trovi Da nessun'altra parte Te lo devi vedere Per forza in DVD O magari Sottotitolato in russo Così però Che senso ha Io voglio chiudere Con un altro oggetto Tu hai finito Non hai più oggetti Io ho Un autografo Di Troy Baker Però non so Se lo voglio mostrare Tra l'altro Ho fatto Su un foglietto Di cantavolano Lo mostriamo Sull'autografo Vai vai Bellissimo Qui Simone era presente Sì Nessuno di due Era presente Intanto Racconto brevemente La storia Di questo autografo Questo autografo È stato fatto Da due miei studenti Dell'epoca Durante Il Milano Games Games Week Milano 2022 In cui c'era ospite Troy Baker Ero lì a fare Da tutor Per coprire Diciamo La copertura Video E quando C'era da coprire Quest'evento In cui c'era Troy Baker Ho chiesto I miei studenti Che sono andati lì A coprirlo Diciamo Se volevano Un voto migliore Di farmi vedere No vabbè Questo non è successo Gli ho però Minacciati Di Di Fargli montare Tutto il materiale Degli altri Ho insistito Per averlo E me l'hanno fatto Sai qual è la cosa Poi divertente Non è che Troy Baker Ma infatti Chi se ne fotte Di Troy Baker Proprio non me ne fotte Un cazzo Però Però è in Affiliazione poi A tutto il resto Che hai Sì esatto Esatto Molto bello Tu Federico Survive Survive Poi tra l'altro Non ti preoccupare Che merda Mamma mia Io invece Volevo mostrare Vabbè Questo che non ho ancora letto Il libro di Once Upon a Time Ma che Leggerò a breve Ah è vero Lui poi ha scritto Sì Ci ha fatto il libro Infatti sono curiosissimo Perché è una delle Delle poche volte Che ad oggi Capita che Si faccia il libro Sul film E nel contrario E poi questo Che ho comprato Appena è uscito in Italia In versione inglese Appena l'ho trovato In versione inglese Prima ancora che La Navite se non sbaglio Lo pubblicasse In italiano Ho comprato la versione inglese L'ho letta Devo dire interessante Però l'ho comprata Semplicemente perché C'è questo nome sopra Vediamo Non No non lo conosco No infatti Però Suonava Suonava No ma suonava interessante Ho detto Ah c'è un tizio italiano Che ha scritto Un libro in inglese Forse un ballerino Un ballerino L'ho comprato E l'ho letto tutto E poi Tarantino è venuto a Milano A fare il firmacopie E non sono andato Ah ok Perché Non se ne parla minimamente Pezzi di merda Che io ho già La mia copia Intanto Devo fare la fila Per vedere Questo qua Che è venuto in mascherina Ma non è che In Italia Ho capito Ho venuto in mascherina Nel 2023 Dopo che è stato in Francia Senza mascherina Oh La Francia Mi sembra un po' Esagerata Tanto Quentin Ha capito subito Qui com'è Sì Dicemi No 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 Non voglio più dire niente Comunque Uno Non voglio fare la fila Sono d'accordo ovviamente Perché È insopportabile Due Per poter fare la fila Per farmi fare la copia Devo comprare Una copia Lì in presenza Ah questo era obbligatorio Eh sì Ma c'ho la mia L'ho comprata apposta No Devo comprare la versione in italiano E la nave di Teseo Tradotta probabilmente No No Non lo so come è tradotta È tradotta bene Non so È tradotta benissimo No Ce l'ho la mia versione E quindi Sto cazzo Io non farò come tutti quegli stronzi Che non è vero Pomerini Tutte le persone Che sono andate lì Tipo un milione di persone Tutti insultati e giudicati In questo In questo modo Io non Non mi faccio fare autografi Tu ti fai fare Io autografo Sì Non è che è proprio una tendenza Io ho queste autografi Già fatti Che forse è la cosa Più dirigente Minchia Va qualche altro Stronzo sempre O vanno I miei studenti O va qualcuno E poi me lo vende Guarda Che vada comunque Qualcun altro A farsi fare l'autografo Poi al massimo Io sborserò Un pochino di più Dai Mi sta benissimo Questo è Capitalismo Vuoi dirmi Quando hai pagato L'autografo di Titano Una possibilità E poi te lo dico Tu quanto lo pagheresti? Io lo pagherei Massimo 75 euro Vabbè Una cifra molto Specifica Non so Mi piace 75 euro L'ho pagato 50 Ah vabbè Dai Cazzo se potessi comprare Non me ne sbatte un cazzo Ma se potessi comprare Autografi a 50 euro Ne comprirei tante È il vantaggio Di vivere in Italia Dove Chi è Chitano? Uno chef Un Sto autografo Non vale niente Ah in questo senso Certo Perché ovviamente Tipo Ho pagato di più Il catalogo Sì sì ovviamente Le opere francesi costavano Proprio irraggiungibili Quindi Ora quanto lo vendi L'autografo Della Schamme No non è in vendita Sei sicuro? Sì Avevamo detto tipo 50 Se ti chiami Federico 75 Se ti chiami Federico Quindi Avevo già preso anche Bene o male il prezzo Quindi lo vuoi Quindi scriveteci In caso Lo vendiamo È aperto all'asta Insieme a questo Gundam Lo buttiamo dentro Alla prossima Cioè la prima volta Alla prossima Alla prossima